Musica Sabato sera a Crotone in piazza Pitagora alle 21.30 si svolgerà il Meeting del Mare, manifestazione giunta ormai alla sua dodicesima edizione che sarà successivamente trasmessa dalle telecamere Rai. Anche quest'anno la serata avrà un cast d'eccezione a presentare lo spettacolo Massimo Proietto, presentatore Rai d'origine crotonese e Giulia Montanarini, subret, reduce dalla partecipazione a molti show televisivi sia sulla Rai che sulle reti media 7 Sky. Nel cast artistico della manifestazione, il cui direttore è Pepe Morgia, danno verare Anna Tatangelo, Franco Neri, Rosa Martirano, la diffusion Jazz Band, Mario Nunziante e Mary Blanca. Durante la manifestazione è prevista la premiazione di coloro che si sono distinti nei vari settori industriali ed artigianato della provincia di Crotone, che riceveranno una statuetta realizzata da Franco Nicotera che rappresenta un bambino che cavalca un delfino. L'iniziativa ideata da Gino Foglia e promossa dall'associazione Centro Spettacolo è stata presentata stamattina nella sala della Camera di Commercio di Crotone, alla presenza di Roberto Salerno e Donatella Romeo, di Massimo Proietto, del regista Rai Massimo Biagini, Maria Alessandra Turino in rappresentanza della Banca Popolare del Mezzogiorno e dei tre assessori comunali Mario Megna, Giovanni Capocasale e Cesare Spanò.